In prossimità dell'uscita del mio album mi sembrava bello presentarlo qui, io ho debuttato qui che avevo 19 anni. Tornare qui al festival è qualche anno che non tornavo, con un album di inediti, un progetto molto particolare, molto legato anche con Geniale per presentarlo, perché è un progetto, sono 11 canzoni inedite, nuove, scritte da me, tutte in dialetto romano, quindi è una cosa veramente un po' diversa da quella che ho fatto fino adesso. Partecipai al festival di Castrocaro e vincendolo partecipai quindi a Sanremo. Io ti giuro il mio primo Sanremo non mi sono reso conto quasi di averlo fatto, eppure la cosa di cui mi sono reso conto è che il pomeriggio alle prove non mi volevano fare entrare perché non mi conosceva nessuno e non avevo fatto il pazzo. C'è una sorta di equilibrio di cui gli autori tengono conto. Così egoisticamente, senza pensare che siamo 20 più 8 giovani proposte, più gli ospiti e via dicendo, egoisticamente se uno capitasse nel primo blocco non soffenderebbe, perché il momento liberatorio in cui dopo aver cantato te ne vai a cena e le...